è una partita di tanti avete fatto una corsa e sono sudato per venire qua ero in ritardo faccio solo una piccola introduzione buonasera a tutti naturalmente tutti conoscete Walter Mazzari quindi fa anche quasi ridere parlare di conferenza di presentazione di una persona che è stata quattro anni a Napoli però comunque questa è a metà tra presentazione e diciamo presentazione della partita di Bergamo. Il mister ci teneva a dire che ha ricevuto una quantità di messaggi, di congratulazioni di auguri, di saluti da un numero tale di persone che non è riuscito e non era possibile rispondere a tutti si scusa ma col cuore risponde a tutti quelli che non hanno ricevuto la sua risposta e adesso io direi che possiamo cominciare vai Guido cominciamo con Sky Salve bentornato bentornato Mazzari le volevo chiedere se ci può raccontare questi suoi primi giorni sono emozionato ragazzi giuro dopo 23 anni di carriera mi avete fatto riemozionare quindi se ci può se ci può raccontare questi giorni e soprattutto se pensa da questi primi giorni che questa è la squadra più forte che lei abbia mai allenato allora cominciamo allora sicuramente sì parto dalla fine così in questi giorni poi devo stare attento a come parlo perché sono famoso per lamentarmi quindi ora c'è un altro Mazzari non mi lamento più quindi sono stato bene ho dormito 12 ore al giorno non è stanco non sono stanco non sono ora sono ero in campo un'ora e mezzo fa mi hanno fatto fare la doccia con carne e sono venuto no davvero è tutto bene è vero il gruppo ha visto da fuori è chiaro poi visto quello che hanno fatto con Spalletti un capolavoro l'anno scorso era un piacere vederlo mi emozionavo a vedere il Napoli perché giocava bene in Italia fuori è stato come si può dire un qualcosa di bello davvero per tutti anche gli italiani penso perché era un bellissimo calcio i ragazzi giocavano bene grande organizzazione era un piacere vedere è vero che quando ti vedi una scuola così uno che ha fatto allenatore per 23 anni spera di poterli allenare grazie al presidente che mi ha chiamato penso di allenarli almeno fino a fine anno Yolanda De Rienzo Sport Italia Salve mister ben trovato e buon lavoro mi collego un po' alla prima domanda perché questo Napoli comunque viene da un momento difficile e allora quando si è incontrato con i ragazzi con la squadra che cosa vi siete detti vi siete dati degli obiettivi per questa stagione? ma guardi la cosa che penso sia abbastanza facile dire è che essendo appunto uno che è 23 anni che è nel calcio che anch'io insomma anche se non ho vinto Scudetti voi sapete che si è vinto anche insieme a una Coppa Italia che era una Coppa Italia dopo mi sembra 23 anni dove Napoli non vinceva niente e ho visto cosa è successo dopo la vittoria che anche quando ero io con l'Eventus se vi ricordate è chiaro che a ragazzi ho detto che probabilmente una squadra che non è abituata a vincere Scudetti era quasi fisiologico che pagasse qualcosa quest'anno ma anche perché inconsciamente i ragazzi stessi magari dicono siamo talmente forti che magari non rincorrono più l'avversario i particolari che fanno la differenza in questo calcio moderno ancora di più perché io ho studiato tanto perché mi voglio sempre aggiornare ho visto che c'è stato un cambiamento di tante cose nel calcio negli ultimi 3, 4, 5 anni e quindi era fisiologico e quest'anno sarebbe stato più difficile per chiunque e quindi io sono venuto e credo di averglielo già un po' accennato per far sì che con la mia esperienza gli faccio capire i pericoli gli dico state attenti che per provare a rivincere le partite gli altri ci aspettano ancora più con attenzione e noi non bisogna sottovalutare niente e questo penso sia il mio vero compito per provarci da qui alla fine per migliorare quello che stiamo facendo in questo momento Giordano al Corriere dello Sport Ciao Laster ben trovato che ti ha chiesto De Laurentiis? La Champions Ma io dico la verità ora voi ognuno poi io ho un rapporto con De Laurentiis da quando me ne sono andato c'è stato l'equivoco per un paio d'anni poi ci siamo dissentiti e c'è stato un rapporto nel tempo talmente importante e bello al di là che io sia ora in questo momento tornato a essere l'allenatore di Napoli oppure anche così in amicizia che credo di poter dire ci diamo del tu cioè c'è la stima è reciproca abbiamo chiarito quelle poche cose che c'erano da chiarire mi sembra che c'è un rapporto talmente importante che non è che devo dirlo io cioè chiedetelo poi quando volete a lui e penso che sia il primo a dirlo poi non so se vuole chiedermi altro Marco Azzi la Repubblica eccomi qua bentornato innanzitutto eccomi allora volevo chiederti in che condizioni hai trovato psicologicamente e fisicamente la squadra visto che al di là delle difficoltà di prendere i campioni d'Italia in corsa c'è anche un calendario che è subito molto impegnativo sono nato per soffrire ma noi abbiamo sempre perché no a farti scherzi anche il Sair l'ho visto oggi per la prima volta non è che posso dirvi tanto da un punto di vista ho parlato con quelli con cui potevo parlare quando sono arrivato se non mi sbaglio i titolari hanno 7 non mi ricordo e ho fatto quello che sono insomma comunque un po' di esperienza ce l'ho anche nei subenti ho fatto quello che ho sempre fatto e ho pensato e credo che abbiano capito anche quello che gli ho già detto a quei pochi con cui ho potuto parlare che io sarò qui a vigilare sul come dire sul particolare mi piace dire così quindi niente ora poi ci sarà tempo di stare insieme oltretutto giochiamo ogni tre giorni staremo sempre in ritiro parlerò con gli altri piano piano capirò meglio se quello che ho percepito è quello che poi è la realtà del futuro grazie a tutti Ciro Trois e Corriere della Sera mister bentornato le chiedo quale sono state le sue prime impressioni nel colloquio con Osimè e che incondizioni sta visto che è recuperata un infortuna ma Osimè ha avuto la sensazione di un ragazzo veramente stupendo ero in panchina me lo sono visto arrivare è stato molto solare ho la sensazione ma poi lo sapete tutti ma insomma anche se non ero qui ha visto in televisione un generoso è uno che al di là del successo personale la prima cosa che gli interessa è vincere con la squadra se c'è da correre fare anche qualcosa in più di quello che fa di solito un campione che fa gol è il primo a farlo quindi ora sta rientrando sono contento e niente poi ripeto l'ho visto anche lui poco eh ora sarò più preciso fra un po' di tempo quando mi farete certe domande Maurizio Nicita la Gazzetta dello Sport ben trovato restiamo argomento centravanti perché nonostante Osimeno non è al meglio comunque ci sono due altre belle alternative di qualità nella scelta di domani conterà più gli allenamenti che hanno fatto insieme oppure il il tipo di strategia della partita visto che sono due centravanti che hanno un'interpretazione completamente diversa del ruolo cioè cosa influirà di più nella nella scelta vedi quando tu mi fai queste domande sapete sono rimasto della stessa non mi piace dar vantaggio agli avvezzari quali sia 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 io sono due lo sapete benissimo Raspadori e Simeone hanno diverse caratteristiche Raspadori è più tecnico viene più incontro manda più gli altri mentre l'altro è più vicino o Simeone lo sapete tutti quindi le mie valutazioni sono saranno fatte sia per questo ma anche per altri aspetti ad esempio chi l'ho visto più fresco domani lo vedrete però come sempre questo credetemi voglio avere vantaggi per noi quindi oltretutto loro sono una grande squadra giocano a uomo e non voglio che un grande allenatore come Casperini abbia dei vantaggi Raffaele Auriemma tutto sport ciao Walter piacere di ritrovarti volevo chiederti seguendo il Napoli di queste prime 16 partite si è avuto la sensazione di una squadra che non giochi sempre con la stessa intensità nel corso delle stesse gare ora è una questione di appagamento inconscio è una questione di condizione atletica quali di questi due motivi e se tu hai constatato questo poi una battuta simpatica come pensi di rispondere a quelli che ti danno l'appellativo di bollito bollito se è buono lo mangio anch'io il bollito guardate sono talmente esperto che non rispondo a queste sciocchezze perché non mi interessa la domanda quella seria qual era? l'ho fatta col bollito quella sull'intensità della squadra che sembra variare durante le partite l'intensità della squadra sembra variare ragazzi per dirvi le cose con più certezza l'ho detto a Capondrelli io da poco sono arrivato e c'avevo metà squadra e si è potuto fare partitine da dieci minuti perché non si poteva io prima di tutto se subentro a un allenatore che comunque ha un curriculum con una cadera non criticherò mai lui quindi se permettino prima di tutto in questo momento non sono in grado di dirti motivi se mai è come dici te in più non mi permettere mai di criticare un allenatore che ha lavorato prima di me quindi dobbiamo aspettare qualunque cosa vedala serò per me e lavorerò con Pondrelli eventualmente con la squadra Auletta cronache di Napoli Salve mister bentornato per quanto riguarda il modulo si ripartirà dal 4-3 oppure più avanti lei vorrà insomma cambiare qualcosina magari tornare anche alla difesa 3 che lei è dato che sono bollito io credo di essere uno degli allenatori a Comerciano lo sanno più ero considerato e credo tuttora uno che può fare qualsiasi modo e tante volte mi chiamano per fare le lezioni agli altri quindi poi ho avuto la fortuna di stare un annetto fermo un anno e mezzo ho potuto studiare come gli allenatori che si aggiornano in continuazione quindi io sono credo di sapere di segnare qualsiasi modo ora come ho sempre fatto quando avrò la conoscenza diretta della squadra deciderò cosa è meglio sia di partita in partita e anche in generale quindi non posso dirgli ora se giocherò sempre in un certo modo è chiaro che una squadra come ho detto prima che ha dato spettacolo in tutta Italia e all'estero di sicuro la prima cosa che penserò di fare e farla giocare come era abituato a giocare poi è andato via anche qualche giocatore che c'era l'anno scorso pochissimi e quando poi sarò padrone della situazione sarò più preciso e lo vedrete di partita in partita quale modo lo farò e quale accorgimento prenderò Silver Mele Canale 8 eccoci qui ciao mister bentornato intanto questo ritorno a casa se permetti ti riconsegna un dato che sei l'allenatore più longevo della gestione dell'Aurentis quindi avrai sicuramente maturato le tue sensazioni ma ti porto anche sulla partita di domani perché Gasperini dice per noi è sempre il Napoli un test di riferimento e non ti fai mancare niente perché in 17 giorni praticamente le metti tutte in fila le più forti d'Italia e poi la Champions con il passo speriamo per per gli ottavi sì guardate tanto ormai è inutile sono esperto se voi vi ricordate ora non per non rispondere direttamente perché si sa tutti che sono partite importanti difficili un momento nostro delicato e basta io però mi sono trovato sempre bene quando ho fatto mi sono buttato nella causa senza pensare alle conseguenze quando veni da voi ero l'allenatore del momento potevo andare dove volevo quasi insomma quando mi chiamò De Laurentiis sono venuto se voi vi ricordavate in base al valore di quel tempo della squadra avevo delle partite proibitive a parte Bologna in casa che poi vincevano all'ultimo secondo c'era Firenze che non vinceva il Napoli da 21 anni c'era il Mila che poi si andava con la Juventus che era 22 anni che ci hanno fatto anche un libro quindi se io mi fossi prosto il problema a quei tempi non sarei venuto a Napoli aspetti Presidente vengo fra un po' e ora mi sembra una situazione in base alla forza e all'evoluzione di questo grande club più o meno simile no? quindi si è andata bene quella volta bisogna essere positivi e si spera che vada bene anche questo Marotta il mattino Ministro buonasera buonasera ho notato che ha fatto molto spesso riferimento alla storia 23 anni che fa l'allenatore 23 anni della Coppa Italia che il Napoli non vinceva gli obiettivi a fine stagione se le posti le chiese dell'Aurentis la vetta della classifica è così distante il Napoli può ambire allo scudetto quando tu entri in un momento così delicato non puoi pensare a dare degli obiettivi chi conosce Mazzardi sa benissimo che la prossima partita è quella da fare alla morte migliorare la squadra creare sempre più entusiasmo cercare di lottare 90 minuti e alla fine tireremo le somme io penso così oltretutto sapete che calendario c'è in questo momento bisogna pensare solo a risolvere gli eventuali problemi che ci sono nella squadra rispetto all'anno scorso ecco questa è la cosa più importante e la prima verifica sarà proprio domani perché è una delle partite più difficili loro fanno un tipo di calcio che per nessuno è facile affrontare l'Atalanta perché ti vengono a marcare a uomo a tutto campo sono fisici quindi già il primo test poi per me è come una raccolta dati dopo l'Atalanta sarò più cosciente ancora di come ho palpato questa squadra io la vedevo in televisione non ve lo scordate se non le alleni le squadre non puoi avere la vera percezione del valore anche del singolo giocatore del ruolo delle sfaccettature che solo gli allenatori che allenano possono vedere Titti in prota canale 21 eccoci qua ben tornato ho capito il suo ragionamento però le vorrei dire che alcuni giocatori prima che lei arrivassi erano tornati a parlare di scudetto nella testa di questi ragazzi ancora possibile o impossibile nonostante la distanza in questo momento dalla vetta pensare allo scudetto guardi vi faccio una semplice risposta se non si comincia a rivincere cosa pensa lo scudetto pensiamo a vincere l'ultima è stata persa e siamo in questo momento a 10 punti dalla vetta che senso ha parlare dire a voi fare proclami cominciamo a vincere le partite ora c'è l'Atalanta una delle squadre più forti più difficile domani è un test poi di volta in volta si penserà a guardare in avanti ma ora pensiamo a rivincere e a non perdere in casa oppure anche fuori ecco questa è la risposta penso sempre Miranda Radio Chris Chris mister sono qui bentornato innanzitutto nella soppassata esperienza a Napoli trasformò Cavani in una vera e propria macchina da gol adesso la macchina da gol lei ce l'ha già a disposizione è Victor Rosimène se vedete le somiglianze tra i due più che a livello tattico perché comunque ho avuto pochi giorni per valutarlo anche a livello caratteriale quella voglia di vincere quella voglia di segnare vista da fuori dico la verità sembra davvero simile è proprio oggettivamente visibile questo perché ho visto un ragazzo in televisione ora ci ho parlato due minuti diciamo è che posso sapere ora man mano che l'allena erotica mi rendono ancora meglio di tutto però a vederlo da fuori anche Cavani quando oltretutto aveva un feeling con l'allenatore vedete le squadre devono avere un feeling con l'allenatore per dare anche qualcosa di più di quello che è il ruolo perché quando tu hai un rapporto allenatore gli vuoi bene lo stimi corri anche per lui perché a volte sembra ma è così mi creda ormai non ho passato tante è proprio così l'ho constata e vedevi che Cavani quando con me aveva un rapporto l'avevo voluto l'avevo allenato l'avevo migliorato si diceva di corri e rientra per la squadra siamo in difficoltà e lui rientrava e Osimenda ha la stessa sensazione è chiaro che non sono io a dirlo perché qualcuno gliel'ha già detto e lui lo sente hanno lo stesso tipologia di gioco ecco in questo momento questo è vero da qui Petino Ussi ben trovato Mazzari anche da parte dell'Ussi la stampa sportiva italiana saluti del presidente nazionale Coppola che adesso è fuori Italia ma che vorrà salutarlo allora ne ha parlato di feeling questa squadra tra i feeling che ha perso è quello con lo stadio Maradona paradossalmente ha avuto delle enormi difficoltà in casa se lei pensa a ristabilire questo feeling se pensa anche al suo esordio poi se è possibile quando ha visto la maglia azzurra con lo scudetto su lei che cosa ha pensato? guardi l'ho detto parto dalla fine voi mi conoscete io sono uno che le sviolinate non riesco a farle forse è anche un mio difetto perché in questo mondo tanti sono molto più bravi di me io Napoli per me è casa mia l'altro giorno vi dico un aneddoto tanto è venuto il presidente dentro il mio spogliatoio penso di averlo visto io e pochi altri mi hanno fatto vedere uno spezzone del film e l'uscita mi arrivano ancora i brividi a vederlo eppure io non erro l'artificio la stessa sensazione la provai quando vincevamo la Coppa Italia noi che tornavamo da Roma eccetera eccetera mentre vedevo il film e se ne accorto anche c'erano altri due o tre della società che mi venivano i brividi mi venivano la pelle d'oca quindi che devo dire non ho parole sono entusiasta di essere qua sapete perché andavi a quel momento e poi ve l'ho detto ma da quel momento fino ad ora per dire in Toscana i napoletani che ho incontrato hanno sempre dimostrato affetto verso i miei e si ricordano ancora il mio Napoli quindi poi non ricordo che mi vorrà chiedere San Paolo ecco qui lo sa io sono andato via avevamo fatto tanto perché siamo a quei tempi arrivare i secondi e partire dove la trovai io la squadra credo che questo è un merito che mi prendo che il Napoli attuale la grande scalata che ha fatto la società dell'Aurentis e tutti quelli che lavorano per lui è partita da me perché con Cavani si valorizzò quindi e loro sono stati bravi a migliorare sempre ogni anno e in Maradona io ho sempre avuto un bel feeling è chiaro che è uno stadio importante perché qui è una piazza grande qui c'è stato Maradona quindi vede quando poi arrivano risultati belli e clasanti c'è anche il contrapasso perché poi quando giochi male o quando fai un po' meno sei criticato ma fa parte del gioco di una grande piazza Napoli è una grande piazza e dico la verità da quando c'è il Presidente da quando c'è questa società è ritornata ai fasti perché è rispettata in tutta Europa quindi è una soddisfazione ma al tempo stesso sappiamo tutti che allenare in Napoli è una grande responsabilità in questo momento ultime due Napoli Magazine Petrazzolo eccomi eccomi ben ritrovato grazie dove eravamo rimasti da dieci anni eh la curiosità che ti chiedo i tre tenori no? mi torniamo un attimo indietro hai detto di Osimena con Cavani Amsic magari potrebbe essere Zialischi Kvara il tuo cocio cioè come raffronti oppure pensi di cambiare qualcosa perché si è detto prima del modulo ma non avresti problemi nemmeno a passare altri 4-3 come faceva Spalletti guardate ora vi voglio dire una cosa semplice perché non voglio fare maestro perché mi porta questo è il mio mestiere se voi pensate anche alla regina quando ho fatto le cose migliori eccetera quando attaccavamo eravamo 3-4-3 l'ha detto lei c'era il tre tenore anzi che fase difensiva si abbassava un po' ma quando attaccavamo era la mezza punta di destra la vizia a sinistra Cavani 4 centrocampisti e 3 difensori se voi pensate il 4-3-3 perché vi dico da sempre il mio modulo preferito c'è tanti movimenti mi piace se voi prendete un centrale delle mie ex squadre se voi vi ricordavate ogni tanto levavo quando non vincevamo levavo un difensore mettevo Berami davanti alle fece e facevo sempre il 4-3-3 per vincere nel finale perché bastava levare un centrale e mettere Berami un pochino più basso che poteva essere un centrale davanti alla difesa come lo botta se voi prendete un centrale lo alzate di 10 metri è lo stesso modulo gli stessi movimenti dei trequattisti quindi quando vi dicevo il 4-3-3 la difesa a 4 per me andrebbe bene è chiaro che un allenatore come me che ha sempre cercato di fare risultati che poi alla fine si chiacchiera però bisogna fare risultati se avevo dei giocatori che ne so non erano veloci dovevo fare in modo di avere una protezione sulla profondità e quindi andavano in anticipo in due e mi conveniva stare a tre però poi quando c'è stata la possibilità e l'ho fatto anche qui diverse volte non vincevamo eravamo diventati una squadra di vertice il secondo tempo levavo un centrale che ne so Gamberini mi viene in mente e Berami stava un po' più basso e facevamo il 4-3-3 mettendo un attaccante in più qualcun altro non è mai stato un problema questo ultima Claudio Russo Calcio Napoli 24 eccomi bentornato due velocissime ha fatto il paragone le similitudini tra Cavani e Simen se rivede le stesse similitudini tra Quarazcheglia e Lavezzi la seconda ma in corso dieci anni fa quando l'Acianapoli sperava di tornarci un giorno di avere qualcosa ancora da completare dopo aver fatto già tanto grazie questa è una domanda che mi sono fatta anch'io quando decisi che era finito il mio ciclo secondo me quando arrivi il secondo e finora non mi ricordo venimo da una partita di Champions e perdemmo una partita ne fa stacchievo e la Juventus inizia l'ultimo minuto del Catania andò a 6 punti io dentro di me ho detto è difficile se non facciamo in quel momento un salto di qualità sugli acquisti sui giocatori già fatti è difficile poi mi conoscono la maggior parte della Rosa è 4 anni che l'alleno è normale che dopo un po' ti prendano le misure e stimolarli l'avete visto quest'anno già vittoria dello Scudetto manca un giocatore o due sono andati via è stato difficile iniziare un anno nuovo qua no? si è visto già io ero il quarto anno e poteva essere il quinto e dovevo arrivare sicuramente più del secondo posto questa era la domanda da fare che mi sono fatto e ho pensato che non sarebbe stato facile in quel periodo storico ok? questo è un po' il discorso Cavara 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 ecco ora non è facile se un discorso di carattere Cavani Osimè Cavara l'ha detto ho capito è diverso se lei mi chiede la posizione è uguale caratteristiche diverse a distanza di anni è diverso perché l'avezzi le faccio un esempio i due centravanti si muovevano da davanti ogni tanto uno feceva la corsa non è facile spiegare l'avezzi era uno che non rientrava come fa Cavara quindi non può essere paragonato è un calcio diverso un modulo diverso io io lo tenevo sempre alto perché era uno che doveva stare alto perché non aveva voglia di rientrare ma non aveva no non aveva no non aveva il fiato se ve lo dire un parola povere se no le qualità organiche per fare tutta la pace se lui lo faceva rientrare scoppiava a quei tempi era diverso tutto ecco perché se mi chiedete un discorso fra giocatore e giocatore sono diversi come ruolo per quando si attacca come le vedete voi sono simili perché saltano tutte e due l'uomo la palla gliela dai ne saltano anche tre hanno controllo di palla quindi dove le volevo dire ecco perché ci ho pensato con Cavani e Rosimè era molto più facile fare il paragone grazie a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti